Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini. E' già con noi, ed è seduto sul divano anche se non inquadrato, l'ospite di questa nuova puntata. Abbiamo con noi il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Buongiorno! Buongiorno e buongiorno a tutti voi. Allora, sindaco, siamo forti, fortissimi e freschi di un rinnovo travolgente, un rinnovo di mandato travolgente. Il più votato della provincia, sicuramente, forse anche di più, insomma. Un 85% di consenso, insomma, vuol dire che si è lavorato bene. Sì, è stata una grande vittoria, una bella soddisfazione con percentuali davvero significative. Siamo contenti e soddisfatti. Ci siamo messi sin da subito a lavorare. Ringraziamo i tanti cittadini che ci hanno sostenuto. È stata davvero una grande vittoria che ci onora, ma che ci consegna anche una grande responsabilità di proseguire nel percorso iniziato in questi ultimi 5 anni, dove abbiamo portato avanti tanti progetti e ora dobbiamo proseguire con tante altre cose da fare per migliorare la città. Noi ci eravamo visti in aprile, il 21 aprile, mi sono andato a recuperare la data esatta e già allora si parlava di questi progetti che erano iniziati e il ragionamento sul doppio mandato era proprio quello. Cioè sarebbe stato veramente un peccato non poter continuare. Per cui è un mandato che si mette in continuità assoluta con tutto quello che era stato fatto, un proseguimento delle attività, ma come sempre per non cullarsi sugli allori con qualche interessante novità. La squadra è la stessa? È stata sistemata con qualche piccola miglioria? Cosa è successo sulla squadra che lavora per tutte le varie attività che ci sono nel comune? Sì, la nuova giunta è una giunta nel segno della continuità perché quattro assessori sono stati riconfermati e poi c'è un nuovo assessore che è stato il più votato tra le energie nuove che avevamo all'interno della squadra alle elezioni e quindi diciamo che è nel segno della continuità perché abbiamo dei progetti che sono già avviati che dobbiamo concludere già nei prossimi mesi, ma poi abbiamo dato anche le deleghe a tutti i consiglieri comunali di maggioranza perché ci sono tante cose da fare, abbiamo bisogno di tutta la squadra, quindi abbiamo dato delle specifiche deleghe anche ai consiglieri comunali proprio per far lavorare tutti per la città. La buona politica fa venire voglia di fare politica, mi viene da pensare a questo nuovo assessore il più votato si sarà dato da fare per avere tutti quei consensi, insomma voglio dire probabilmente è un volano virtuoso questo che si crea quando si fanno le cose belle e fatte bene. Sì, la cosa bella è che in tanti si sono avvicinati al nostro progetto e ci sono tante energie nuove che sono entrate in consiglio comunale ed è bello vedere che ci sono giovani che hanno voglia di spendersi per l'amministrazione, per amministrare la città in cui vivono, ci sono anche tante donne all'interno del consiglio comunale e quindi anche questo ci fa molto piacere e fa ben sperare per il futuro. Nella scorsa edizione di Casa Rossini io ho ospitato e conosciuto tantissimi sindaci del nostro territorio che mi hanno letteralmente fatto innamorare della nostra provincia. St'estate l'ho girata, l'ho girata in moto, mi sono mosso, ma con una consapevolezza diversa, cioè con la consapevolezza che in ogni posto, anche solo di passaggio, ci fosse qualcuno che lo viveva nella sua quotidianità e qualcun altro che si preoccupava della quotidianità della sua comunità. Questo è quello che è uscito fuori e molto forte anche dalla nostra chiacchierata di aprile dove abbiamo per esempio fatto notare una cosa che può sembrare banale ma che di 42 comuni della nostra provincia solo 4 hanno il mare e Mondolfo è uno di quelli perché c'era tutto il discorso di Marotta e tutto il resto. Eravamo alla vigilia dell'estate, com'è andata l'estate? L'estate è andata bene, nonostante appunto questa emergenza sanitaria che sembra non lasciarci però è andata bene, tanti turisti, numeri, ancora non abbiamo i dati ufficiali però diciamo che le attività, alberghi, ristoranti, bar hanno lavorato tanto rispetto agli anni precedenti quindi diciamo che i dati che ci arrivano sono positivi poi aspettiamo quelli ufficiali, abbiamo visto che il dato della regione Marchia anche quello è positivo sull'affluenza turistica e dovrebbe essere così anche per il nostro comune. Adesso siamo alla vigilia invece di Natale, siamo dalle parti già del Natale per cui ci si prepara sia forse sulla parte della litoranea ma in realtà ritorna protagonista anche la centralità di Mondolfo, vero e proprio? Sì, del borgo perché di solito le iniziative natalizie si concentrano molto nel nostro borgo e quindi ci saranno sicuramente le luminarie che stiamo realizzando assieme alle associazioni del territorio ci sarà anche una mostra all'interno del chiostro di Sant'Agostino e poi vediamo, insomma, noi siamo pronti anche con eventuali iniziative vediamo se dal punto di vista della sicurezza e anche della pandemia sarà possibile farlo, lo sapremo nelle prossime settimane. Ricordiamo i progetti quelli grossi di cui avevamo già parlato in aprile che vanno verso una concretizzazione o comunque verso un proseguimento del loro percorso e poi parliamo anche di qualche novità. Ci sono progetti che abbiamo già avviato come l'adeguamento sismico della scuola mediafermi che dobbiamo completare nel 2022 l'ampliamento del cimitero comunale, il restauro del bastione Sant'Anna che dobbiamo completare nei prossimi mesi, quindi lo inaugureremo a breve dobbiamo partire con i lavori del percorso ciclopedonale Centocroci-San Gervasio abbiamo terminato gli accordi bonari per l'acquisizione dei terreni dei privati quindi un percorso importante che collegherà tutto il quartiere di Ponterio con Centocroci quindi ci sono tante opere pubbliche che avevamo già messo in programma e poi c'è anche il nuovo servizio di raccolta differenziata che partirà dal 1 gennaio 2022 E questa per voi è una novità? E questa è una novità, nei prossimi, in queste settimane stiamo distribuendo le attrezzature e i kit a tutti i cittadini, sarà una raccolta porta a porta a spinto su tutto il territorio comunale abbiamo fatto diversi incontri informativi molto partecipati c'è una pagina Facebook e Instagram da seguire per i cittadini che è raccolta differenziata a Mondolfo quindi stiamo cercando di arrivare a più famiglie possibili anche tramite i social, tramite le comunicazioni via web e quindi sarà un nuovo servizio che porterà sicuramente un miglioramento e una migliore pulizia anche della città So per esperienza diretta che il tema della raccolta differenziata è un tema che, adesso è ovvio dirlo, entra nelle case ed è un tema da affrontare con cautela perché non è così immediato come potrebbe sembrare il concetto che è necessario fare la raccolta differenziata lo so per esperienza diretta perché ho partecipato a una campagna che puntava a incrementare le percentuali nei comuni ma parliamo di qualche anno fa, tra cui Pesaro, Urbino e altri comuni che già la facevano e l'obiettivo era quello di incrementare avevamo scoperto che uno strumento potentissimo sono i bambini perché i bambini prendono le cose sul serio e quando i bambini si impegnano riescono a far fare ai genitori qualcosa che i genitori magari farebbero un po' malvolentieri per cui questo può essere un'indicazione che vi do ma è sicuramente una considerazione da fare Sono previste infatti delle campagne anche nelle scuole ma già lo stiamo facendo da diversi anni in collaborazione con le presidi e anche con gli insegnanti Devo dire che i nostri cittadini sono virtuosi nel senso che abbiamo raggiunto percentuali di raccolta differenziata importanti siamo arrivati a circa l'80% e quindi siamo uno dei comuni più virtuosi della provincia di Pesaro e Urbino però credo che con la raccolta differenziata porta a porta a spinto ci miglioreremo ancora di più non è facile, cambiano le abitudini anche se non di tanto perché già i cittadini di Mondolfo e Marotta erano abituati a differenziare e quindi quando si va a cambiare le abitudini delle famiglie ci sono sempre un po' di problemi però è per qualcosa che va verso la direzione della sostenibilità ambientale D'altra parte mi ero preso un appunto, i comuni diventano protagonisti dal piccolo, non dico dal basso dal piccolo di tutto il piano nazionale di resilienza e riprese resilienza cioè vengono proprio incaricati di essere quelli che trascinano giustamente i comportamenti individuali verso il successo che ci auspichiamo tutti che si ottenga con questo piano Sì, sarà importante spendere le risorse che arrivano, adesso ancora non si sono viste quindi anche noi siamo in attesa, sicuramente il problema che hanno tutti i comuni da quelli piccoli a quelli grandi riguarda la progettazione, i costi della progettazione e trovare le risorse a bilancio per progettare perché la cosa importante di ogni bando è essere pronti appunto con i progetti noi cercheremo in questi mesi di organizzarci, di organizzare la macchina comunale verso questa direzione anche se negli ultimi 5 anni abbiamo preso all'incirca 6 milioni 7 milioni di Euro di finanziamenti regionali, ministeriali ed europei proprio perché abbiamo progettato tanto cercheremo di farlo anche nei prossimi mesi, le tempistiche sono sempre molto strette di questi bandi però ci saranno insomma delle opportunità per i comuni È un trucco per limitare questo delle tempistiche strette o è un problema burocratico? O è un trucchetto per limitare il numero di richieste? Questo di dare poco tempo e di conseguenza in qualche modo selezionare i più svegli? Ma adesso non lo so questo, nel senso che sicuramente le risorse che arrivano, i problemi che ci sono stati negli anni in passato e che i finanziamenti europei c'erano ma poi le regioni non riuscivano ad utilizzarli e a spenderli e quindi è un modo di lavorare diverso che si chiede a tutte le amministrazioni cioè quello di progettare, di arrivare pronti con il progetto e cercare insomma di avviare i lavori prima possibile però dal punto di vista burocratico ci sono delle tempistiche che non sempre è facile rispettare Qui ne avevamo parlato sicuramente chi è più abituato a muoversi con velocità nel mondo di oggi anche per una questione anagrafica ma anche per una questione di cultura, di abitudine sicuramente si trova avvantaggiato, parlo proprio degli amministratori Sì, credo che essere attenti ai bandi che escono e avere una visione lungimirante quello premia poi ecco, quindi anticipare addirittura qualche volta qualche bando che può uscire su diverse tematiche quello è fondamentale Ho qui un appunto sull'illuminazione pubblica? Allora abbiamo A proposito di luminarie, di là c'erano i luminarie di Natale ma poi a Natale quelle dopo Natale si spengono ma bisogna rimanere illuminati Sì, questo è un progetto che già faceva parte insomma del programma precedente riguarda la nuova illuminazione su Viale Carducci quindi su una via del nostro lungomare, della nostra zona mare quindi lì cambieremo tutta l'illuminazione pubblica c'era un impianto che era totalmente obsoleto e quindi era necessario investire sulla sicurezza della strada e anche dei cittadini poi abbiamo concluso da poco i lavori di asfaltatura in via Ancona e via Perugia quindi metteremo mano su altre tre vie grazie appunto ad un bando regionale dove abbiamo ottenuto circa 100 mila euro e quindi ecco, diciamo che i cantieri continueranno anche nei prossimi mesi essere al contempo un comune con un territorio ad altissima vocazione turistica estiva e al contempo avere un borgo di residenti che vivono tutto l'anno dà un po' la sensazione di dire vabbè, d'estate ok, lo lasciamo al mondo il nostro territorio però d'inverno ce lo riprendiamo, stiamo un po' per conto nostro ormai la voglia di avere visitatori e turisti si manifesta tutto l'anno per le attività ma anche per il comune se ci sono turisti tutto l'anno sarebbe una bellissima cosa poi non sempre si riesce, si cerca di organizzare delle iniziative anche fuori dalla stagione estiva proprio per attirare i turisti vedo che il borgo è comunque molto visitato anche nei mesi autunnali e invernali non solo per le iniziative natalizie ma anche per tante altre mostre, musei civici ci sono delle giornate come le giornate del FAI di primavera che attirano tanto o ad esempio Galleria Senza Soffitto, queste opere d'arte che sono lungo le vie del nostro centro storico anche quelle attirano molto e soprattutto vediamo che c'è un collegamento tra chi viene da fuori regione con i pullman a mangiare a Marotta, nei ristoranti di Marotta molto spesso le agenzie propongono di andare a visitare prima il borgo quindi verso le 10 e mezza di mattina vanno nel borgo a visitare il centro storico di Mondolfo e poi scendono sul mare per mangiare nei ristoranti, questo l'abbiamo visto nei mesi autunnali e a primavera e lì la squadra di assessori ha un ruolo importante perché ognuno ha il suo campo per cui tutto il discorso della cultura, tutto il discorso dell'accoglienza, il discorso turistico insomma vengono ben smistati e ben amministrati ognuno ci avrà anche magari qualche iniziativa da portare, qualche idea, perché no? sì, cerchiamo ogni anno, puntiamo su nuove iniziative, di proseguire con quelle che ci sono già che vanno bene e poi proviamo ad aggiungere altre iniziative ogni assessorato ha le sue deleghe specifiche, le idee non mancano, le associazioni del territorio sono vive e quindi si cerca sempre di fare il massimo per attrarre ancora più persone nella nostra città abbiamo 3-4 minuti, diamo uno spunto ai nostri telespettatori a casa per prendere, per mettersi qualche appunto in agenda andare a Mondolfo per, quando, insomma così, diamogli un'orientata, diamogli qualche bel motivo intanto per visitare il borgo ci sono le passeggiate organizzate dall'archeoclub quelle sono davvero interessanti per conoscere il patrimonio artistico e culturale che abbiamo poi c'è una ciclabile sul lungomare dove tutti i cittadini possono farsi una passeggiata o una pedalata in bicicletta adesso l'obiettivo è quello dell'infrastruttura del ponte ciclopedonale sul Cesano che è un'infrastruttura fondamentale per collegare Marotta con Senigallia quindi ci sarà questo collegamento in più, speriamo a breve è un progetto che stiamo portando avanti col Comune di Senigallia e con la Regione Marche quindi ci sarà la possibilità anche di raggiungere altre località e insomma di godersi il mare di questo ponte ne avevamo parlato perché in qualche modo è una sorta di esperimento si collegano due province, per cui ci sono energie che non sono solo da avviare tra comuni ma addirittura si supera il confine provinciale per quanto ormai questi confini possono sembrare in certi casi anche anacronistici però in realtà è un confine che c'è, per cui non solo una diversa amministrazione comunale ma una diversa amministrazione provinciale è un'opera fondamentale, è un bellissimo progetto non è semplice perché coinvolge più enti però la Regione Marche sta coordinando appunto questa progettazione e poi coordinerà appunto i lavori e speriamo di vederlo presto perché poi ne beneficerà tutta la linea litorale sia del Pesarese che dell'Anconetano, diciamo, delle due province Bene, Sindaco, Nicola, cosa mi sono dimenticato? Che stiamo quasi in chiusura, mi sono dimenticato qualcosa di clamoroso oppure ci siamo insomma? No, abbiamo detto tutto ecco, poi i progetti ci saranno modo per parlarne anche nei prossimi mesi adesso stiamo ad esempio con l'ANAS, in collaborazione con l'ANAS stiamo portando avanti la progettazione per una nuova rotatoria all'incrocio al semaforo, all'incrocio tra la Pergolese e la strada statale che è un'opera che richiedono da tanti anni non solo i cittadini di Marotte e Mondolfo ma anche tanti cittadini che passano Trafano, Senigallia e quindi percorrono la strada statale, la Pergolese e quindi quello aiuterà molto la viabilità della zona quindi anche quello è un altro progetto in programma Io chiedo spesso ai sindaci che vengono a trovarmi cosa ne pensano i cittadini ma qui abbiamo il risponso recente con questo appunto plebiscito che è sicuramente gratificante immagino che insomma dia una bella soddisfazione muoversi nell'ambito del proprio comune sapendo che l'85% dei votanti ha deciso che quello che si sta facendo va bene è una grande soddisfazione e anche una grande responsabilità noi le aspettative come sempre dopo ogni elezione sono tante noi cercheremo di fare il massimo chi ci conosce lo sa noi siamo persone che cercano di mettercela tutta per migliorare il territorio non sempre si riesce, non sempre si fanno le scelte migliori però si cerca sempre di fare di più per il comune Bene, seguiremo con attenzione tutto quello che succede dalle parti di Mondolfo Marotta nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e per adesso ringraziamo i telespettatori per averci seguito in questa Enneggi una puntata di Casa Rossini e il sindaco Nicola Barbieri per essere stato con noi a raccontarci un po' del suo territorio Grazie a voi per questa opportunità Restate sempre in visione dei programmi di Rossini TV l'appuntamento è a una prossima puntata di Casa Rossini